Ciao a tutti da Diego di TecnoFail.it Eccomi di nuovo a parlarvi di un paio di auricolari True Wireless dell'azienda Tronsmart Tronsmart per quanto mi riguarda è una garanzia ragazzi i loro prodotti sono davvero tutte le volte eccellenti e per quanto riguarda gli auricolari wireless sono davvero eccezionali quest'anno con la conosciuta oramai pandemia c'è stato un po' di panico dal punto di vista della sanificazione ed è arrivata la sanificazione anche negli auricolari perché? Perché all'interno vedete qua dentro c'è un sanificatore a raggi UV può servire, non può servire, di certo non le acquisto perché mi sanificano gli auricolari però è una funzione che alcuni produttori stanno introducendo anche LG tra l'altro ha fatto degli auricolari con all'interno il sanificatore e è un po' come diciamo la luce del frigorifero nel senso che quando la apriamo si spegne comunque se fate veloce vi mettete in una zona al buio lo aprite, tirate fuori subito l'auricolare vedete che la lucina, esattamente è questo, è il sanificatore la lucina UV rimane accesa per qualche istante e poi si spegne ma detto questo, chiaramente questa è una cosa in più che c'è gli auricolari sono di tipo True Wireless hanno il supporto al Bluetooth nella versione 5.0 vi arrivano in questa scatoletta che è da 500 mA che ve li ricarica la durata totale quindi con la ricarica ogni volta che li mettiamo dentro è di 36 ore mentre la durata degli auricolari è di circa 6 ore che è davvero molto molto buona li inseriamo dentro per 5 minuti e avremo circa un'ora di utilizzo davvero molto molto comoda tra l'altro la ricarica avviene attraverso la porta USB Tab C in circa 2 ore si ricaricano completamente da questo punto di vista diciamo molto molto abbastanza veloce se così si può dire come ho detto processore Qualcomm che supporta il protocollo aptX se lo utilizzate con gli iPhone è ottimizzato anche per riprodurre il suono diciamo dei dispositivi AAC quindi diciamo il suono che sfrutta gli iPhone mi sono impappinato e hanno la cancellazione del rumore di fondo durante le chiamate ok non ce l'hanno normalmente il bluetooth nella versione 5.0 cosa ci dà? ci dà la possibilità di avere un collegamento praticamente istantaneo noi apriamo il case e si va subito a collegare con il dispositivo chiaramente dovrete avere un dispositivo con il bluetooth nella versione 5.0 altrimenti diciamo se ce l'avete 4.2, 4.1 sarà leggermente più lento il collegamento appena vengono aperte si vanno a collegare all'ultimo dispositivo che è stato collegato vedete in questo caso TronSmart Onyx Free e sono pronte diciamo al utilizzo rispetto agli altri auricolari queste TronSmart Onyx Free vediamo se mette a fuoco ok hanno un tastino tastino che è della Panasonic tastino che l'ho trovato molto comodo rispetto ad altri tasti perché è della pressione giusta non è né troppo duro né troppo mollo quindi quando lo andiamo a premere avremo determinate funzioni come ad esempio un click serve per mettere in pausa far ripartire il brano rispondere ad una chiamata e diciamo queste sono le funzioni principali poi sull'auricolare destro se facciamo aspettate che mi sono scritte non me lo ricordo se facciamo un tocco di tre volte ok serve per mandare avanti il brano se invece lo facciamo sull'auricolare sinistro serve per mandare indietro il brano due volte auricolare destro serve per alzare il volume due volte sull'auricolare sinistro serve per abbassare il volume c'è anche la possibilità di chiamare e di attivare l'assistente vocale e per fare questo bisogna toccare e tenere premuto per avviare l'assistente vocale che sia Siri assistante non c'è nessun tipo di problema quindi diciamo questi sono i comandi che dovrete poi impararli diciamo con il tempo nella confezione che non si apre apriti ok nella confezione troviamo altri due tipi di gommini in ear c'è diciamo installato quello intermedio che solitamente almeno a me è quello che è diciamo preciso poi abbiamo anche il cavetto usb type c per la ricarica e adesso è arrivato il momento di indossarli e vi vi parlo anche di come suonano e come funzionano allora questi auricolari innanzitutto si possono utilizzare sia in modalità stereo ma anche in modalità mono la prima volta che per prima cosa bisogna sempre associarli allo smartphone e poi possiamo scegliere di utilizzarli solo uno sia destro che sinistro non fa differenza si inseriscono nelle orecchie in modo molto molto semplice basterà spingerli in fondo e ruotandoli fino che non troviamo una posizione diciamo corretta andiamo a mettere anche l'altro e poi per far partire il brano bisogna chiaramente toccare il tastino l'isolamento passivo è tipico delle in-ear quindi comunque una volta che ce l'abbiamo sentiamo il suono esterno un pochino ovattato non hanno sistemi di rumore ambientale nel senso che utilizzano i microfoni per farci sentire quello che succede all'esterno no una volta che ce l'abbiamo partiamo e ascoltiamo la musica musica che viene riprodotta molto molto bene perché questi auricolari come ho detto di Tronsmart hanno sempre una garanzia dal punto di vista della qualità del suono e chiaramente poi avendo il chip di Qualcomm questa è una cosa diciamo in più il suono ha una spazialità abbastanza ampia non proprio ampissima però però riproduce molto bene i bassi ha delle frequenze medio-alte che sono abbastanza livellate tra di loro e devo dire che il suono è abbastanza avvolgente non è proprio super avvolgente lo sentiamo lì però comunque devo dire che nel complesso suonano davvero molto molto bene oramai ne ho provati tanti audio auricolari in questo periodo devo dire che lo standard è quello c'è qualcosa che eccelle un pochino di più qualcosa che leggermente di meno però bene o male nella media sono tutti davvero molto molto performanti quindi penso di avervi detto tutto come al solito ho sempre qua il mio taccuino per vedere se mi sono dimenticato qualcosa sì mi sono dimenticato qualcosa perché sono certificate in PX7 cosa vuol dire? vuol dire che sono resistenti al sudore quindi possiamo correre eccetera eccetera e fare tutti i nostri salti chiaramente avendo un design in ear rimangono molto stabili nelle orecchie anche se ci muoviamo eccetera eccetera non le perdiremo assolutamente anche perché sono davvero davvero molto leggere quindi ve le consiglio chiaramente se siete interessati e oltretutto avrete anche ogni volta che le utilizzate sono sanificate la nuova parola di questo 2020 è sanificare le trovate il link per acquistarle sotto alla descrizione del video queste sono le auricolari si chiamano Trosmart Onyx Free e io vi saluto scherzetto mentre montavo il video mi sono accorto che non vi ho parlato di come sono le chiamate con questi auricolari chiamate che sono buone devo dire che non è il loro punto forte soprattutto per quanto riguarda una zona rumorosa perché si ha la cancellazione del rumore di fondo però non è proprio la sua funzione principale comunque devo dire che nel complesso una telefonata si riesce tranquillamente a fare chiaramente adesso sto cercando il pelo nell'uovo quindi rispondete tranquillamente il vostro interlocutore vi sente magari in caso di zona rumorosa dovete alzare un pochino più la voce però in una situazione normale basterà parlare normalmente senza gridare come un'aquila e vi sentirà tranquillamente adesso è veramente ho finito grazie a tutti Grazie a tutti.